Dopo un anno ritrovato il corpo di Brunella, tredicesima vittima dell'alluvione. La terra torna a tremare, questa mattina sisma di magnitudo 4. Primo giorno di scuola per 46.000 bambini e ragazzi di Pesaro Orbino. La nuova direttrice regionale D'Amico a Pesaro per la prima campanella. Il teatro Rossini riapre per la danza di Pesaro 2024. Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV. Ben ritrovati a Rossini News, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento serale con il telegiornale delle Canale 80. Notiziario che in questo mercoledì 13 settembre apriamo con una notizia che chiude un drammatico cerchio di fatto iniziato praticamente un anno fa. Ovvero quando la terrificante alluvione del 15 settembre 2022 nel territorio senigallese procurò 12 vittime. E una tredicesima donna, ovvero Brunella Chiù, rimase a lungo dispersa e mai ritrovata fino a ieri. Una giornata in cui è stato accertato invece il ritrovamento del suo cadavere alle isole Tremiti. A distanza di un anno è stato ritrovato il corpo senza vita di Brunella Chiù, 56enne di Barbara, tredicesima e ultima vittima della terrificante alluvione che il 15 settembre del 2022 mise in ginocchio il territorio senigallese. Questa mattina il gruppo carabinieri forestale Nipaf di L'Aquila ha infatti informato il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli del provvedimento emesso dalla procura della Repubblica dell'Aquila con il quale si comunicava l'avvenuto ritrovamento del cadavere di Brunella dispersa dal 15 settembre data in cui fu trascinata via dalla potenza dell'esondazione del fiume Nevola mentre era assieme alla figlia 17enne Noemi Bartolucci, poi trovata senza vita, e del figlio Simone di 23 anni che si salvò miracolosamente aggrappandosi a un albero. Il ritrovamento del corpo di Brunella è avvenuto ieri nelle acque antistanti alle isole Tremiti ed è attualmente sepolto al cimitero di Vieste. Un ritrovamento avvenuto dopo mesi di ricerche incessanti. Alla regione Marche è stata fatta pervenire anche copia degli accertamenti esperiti dai carabinieri RIS di Roma con i quali si attesta la compatibilità nella comparazione del DNA. Lasciamo la cronaca e cambiamo argomento, lo facciamo parlando di scuola perché come noto oggi 13 settembre era la data della prima campanella per le scuole marchigiane. Benne 46 mila gli alunni delle scuole di ogni ordine grado della provincia di Pesaro Urbino che sono rientrati in aula questa mattina. Il servizio. Mercoledì 13 settembre è suonata la prima campanella sull'anno scolastico 2023-2024 per la regione Marche è suonata oggi per 46 mila studenti della provincia di Pesaro Urbino studenti che vanno dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore realtà diverse che si convogliano ad esempio qui dove ci troviamo oggi a Pesaro Studi in Viale Trieste un luogo che fino a pochi anni fa non era deputato all'istruzione scolastica bensì a quella universitaria e che si è trasformato anche in virtù dei tanti cantieri che ci sono in città per quello che riguarda l'edilizia scolastica. Dall'anno scorso qui in Viale Trieste c'è la scuola media Dante Alighieri da quest'anno si trasferisce anche la scuola primaria Mascarucci di Soria così come la scuola dell'infanzia Scaravocchio che si trova proprio davanti a Pesaro Studi nello stabile di Viale Trieste 391. Soluzioni temporanee che sono state scelte come luogo simbolico per questo via all'anno scolastico per quello che riguarda il momento istituzionale di saluti scelto ad esempio questa mattina dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Il primo giorno di scuola è sempre importante, ogni anno andiamo a salutare le scolaresche, gli insegnanti, i genitori quest'anno siamo a controllare i lavori fatti durante l'estate perché è stata un'estate molto complicata stiamo facendo due scuole nuove, una scuola elementare, anzi tre scuole nuove una scuola media la Dante Alighieri, una scuola elementare a Santa Maria delle Fabrecie una scuola materna nuova a Soria, lo Scaravocchio e questo ci ha comportato lo spostamento di diversi ragazzi e la ricerca di soluzioni alternative. Qui a Pesaro Studi c'è la scuola Dante Alighieri e c'è anche la Mascarucci perché abbiamo avuto il problema anche della Mascarucci, in questo caso non perché si fa una scuola nuova ma perché la scuola vecchia non era più adeguata e quindi a Pesaro Studi c'è tutto il polo di Soria Dante Alighieri, Mascarucci e Scaravocchio l'asilo in questa zona e quindi un bel centro diciamo come scuola di emergenza al mare non è proprio male e poi abbiamo dovuto spostare invece la scuola di Santa Maria delle Fabrecie alla sede civica di Vismara, anche lì è venuto benissimo il lavoro, è una soluzione temporanea in attesa della scuola nuova però diciamo di grande qualità e al tempo stesso abbiamo dovuto spostare l'università perché l'università da Pesaro Studi l'abbiamo spostata a Muralia nei locali della circoscrizione, quindi è stata un'estate complicata, faccio i complimenti agli assessori Murgia e Posti, abbiamo dovuto spendere diverse centinaia di migliaia di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza però è partito tutto bene, l'anno scolastico è in sedi adeguate, belle, forse anche meglio di quelle delle scuole precedenti pur essendo in alcuni casi scuole transitorie o di emergenza. Sindaco che nell'occasione è stato accompagnato anche dagli assessori Pozzi e Murgia così come dalle dirigenti dell'ufficio scolastico regionale e provinciale Donatella D'Amico e Alessandra Belloni che hanno portato il loro saluto agli studenti e il loro messaggio di buon augurio per il via all'anno scolastico. Auguro che quest'inizio possa essere rappresentativo delle loro aspettative, dei loro sogni, che sia un anno di impegno ma anche di divertimento. Ho mandato a tutti gli studenti e tutte le studentesse al mondo scuola della città un augurio per quest'inizio di lavorare insieme che è la caratteristica principale che ci contraddistingue come comunità educativa della città e del territorio. Creare gruppo in classe, creare gruppi con gli insegnanti è sicuramente l'arma vincente per superare ogni difficoltà e anche la realizzazione di questi stabili, provvisori ma bellissimi rappresentano un ottimo lavoro di squadra. Quest'anno, come ogni anno, abbiamo lavorato intensamente per poter far sì che l'anno scolastico partisse con regolarità, avendo anche in cattedra la maggior parte dei docenti, del personale ATA e quindi siamo soddisfatti perché il nostro intenso lavoro estivo, come manifesta il mio pallore, ha già dato i suoi frutti e quindi abbiamo riscontro da parte di tutti i dirigenti che i docenti sono arrivati, sono in cattedra, il personale ATA è al suo posto e questo permette di avviare l'anno scolastico con regolarità, con correttezza e quindi senza così tentennamenti e senza perdere nemmeno un'ora a favore dei nostri ragazzi. E per la prima campanella del suo primo anno scolastico nelle Marche ha scelto proprio Pesaro la nuova direttrice dell'ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico per dare il benvenuto agli studenti. Ascoltiamo alcune osservazioni sull'anno didattico che sta cominciando in questa nostra intervista. Da un mese è diventata la nuova dirigente dell'ufficio scolastico delle Marche. Dopo otto anni di direzione di Ugo Filisetti è andato in pensione in estate, il timone della scuola regionale è passato a Donatella D'Amico, reduce da tre anni alla direzione dell'ente per il diritto allo studio universitario del Piemonte. Questa mattina la 58enne abruzzese ha scelto Pesaro e in particolare Pesaro Studi per salutare la sua prima campanella all'anno scolastico marchigiano. La realtà che ho trovato a Pesaro io penso che sia unica, è una testimonianza di una ricostruzione che parte veramente dalla base, dal territorio, quindi le scuole insieme all'amministrazione comunale hanno fatto delle scelte ottime, ottime viste ovviamente dall'ottica della scuola. Più istituti in uno stabile ma senza rischi di sovraffollamento. Abbiamo visto qual è il rapporto medio e abbiamo visto che in questo istituto comprensivo si aggira intorno ai 20-21 a classe e lo stesso vi posso dire al livello regionale, stiamo sul 20,21 quindi è una media ottima. È ovvio che poi nelle singole scuole ci può essere, dipende poi dalle aule, l'aula più affollata quella meno, però abbiamo delle percentuali molto valide e che insomma rassicurano non solo la scuola ma anche le famiglie. A Pesaro l'Adamico ha anche dato la sua positiva sottolineatura ad alcune novità introdotte come la rinnovata importanza al voto in condotta. Il voto in condotta ha la sua grande importanza perché il voto in condotta è rispetto delle regole, rispetto delle regole significa rispetto dei valori. In un'ottica in cui la scuola sta cercando di recuperare un ruolo sociale e qua ne abbiamo la testimonianza, io penso che sia stato veramente importante questo passaggio sul recuperare l'importanza del voto in condotta. Da quest'anno saranno introdotte anche le figure dei docenti orientatori. Sono insegnanti che già esistono nella scuola, cioè non sono aggiunte, quindi saranno docenti con una sensibilità in più verso proprio la costruzione insieme agli alunni di questo percorso di orientamento che partendo dai più piccolini arriva fino alle scuole superiori quindi con la scelta del percorso che può essere università oppure mondo del lavoro. E infine il precariato, una sfida tavica sulla quale quest'anno ci siamo assi con anticipo di procedure. Quest'anno come gli ultimi anni c'era quello che definiamo l'algoritmo, diciamo era un po' più controllato, abbiamo avuto meno problemi e quindi ci auguriamo di avere tutti gli insegnanti prima di tutto in cattedra in questa prima giornata. C'è sempre la percentuale che secondo me è impossibile non averla di supplenti, però abbiamo ridotto molto la percentuale dei supplenti che insomma quest'anno riesce a seguire un po' l'andamento della scuola, quindi questi numeri in crescita nella nostra realtà. E proprio questa mattina durante il primo giorno di scuola e in particolare alle ore 10.38 la terra è tornata a tremare con un sisma di magnitudo 4.1 con epicentro a largo della costa adriatica ad una ventina di chilometri da Marotta e da Senigallia e a 6 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente sul nostro litorale e una scuola primaria anconetana è anche stata evacuata per precauzione. Ed ora facciamo il punto sul bilancio della stagione estiva per quello che riguarda il reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona che interviene su tutti i 180 chilometri di costa marchigiana. In particolare sono stati effettuati in quest'estate 380 controlli che hanno spaziato dal contrasto al lavoro nero, alla tutela del demanio marittimo, al controllo delle accise, al rispetto del codice della navigazione e alla tutela del patrimonio ittico. Dei controlli effettuati il 14% è risultato irregolare. In particolare per quel che riguarda la tutela della sicurezza dei bagnanti e dei diportisti sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 200 mila euro in merito a violazioni al codice della navigazione. Risultati importanti sono stati anche conseguiti nella salvaguarda del patrimonio ittico. e biologico. Ad esempio sono stati sequestrati oltre 20 mila esemplari di ricci di mare pescati illegalmente e immediatamente rigettati in mare. Cambiamo argomento ora con un servizio del nostro Edoardo Orazzi che vi racconta una particolare storia di malattia e di rinascita. L'aspetto mentale, vale a dire tenace e sacrificio, la gran parte delle volte risulta determinante ai fini del risultato finale. Un concetto che può essere ripreso quando ci si ritrova davanti a delle sfide sportive ma anche, come in questo caso, quando si è di fronte ad un bivio che potrebbe stravolgere la propria vita. È il caso di Giuseppe Adragna, podista amatoriale di 61 anni, cresciuto a Pesaro ma originario di Trapani, che nell'agosto del 2022, nel corso di un allenamento, avrebbe avuto un calo improvviso di energie e forze, fino a ritrovarsi con tutti e quattro gli arti paralizzati. Da lì il calvario. Prima la corsa al pronto soccorso e poi la risposta alla diagnosi che ha confermato la sindrome di Guillain-Barré, una malattia rara che danneggi i nervi che connettono il sistema nervoso centrale con il resto dell'organismo. In poche parole c'è il serio rischio di paralisi permanente. Una lotta per la sopravvivenza che ha visto accendersi da quando, nel settembre dello stesso anno, Giuseppe ha varcato la porta della struttura riabilitativa Santo Stefano di Villa Fastigi, gruppo COS. Un percorso intenso di sei mesi che miracolosamente, grazie alla fisioterapia, gli ha permesso di tornare quasi completamente alla vita di tutti i giorni. Quella volta ero recuperato in terapia intensiva, quindi ancora sono stato pure in coma. Dopo ho chiesto un centro di riabilitazione e ho scelto Santo Stefano dove mi sono trovato benissimo. da tutto lo staff, sia medico, sia delle OSS, sia delle fisioterapiste che mi sono stato sempre a fianco e mi hanno portato fino alla guarigione. Il mio pensiero era di rimanere sulla sede di rotelle e quindi non accettavo quel tipo di vita. Poi piano piano tramite mia moglie, mia figlia, ho iniziato a reagire e di là con tenace forza sono riuscito a ottenere la guarigione. È stato, secondo me pure, io credo un po', è stato pure un mezzo miracolo. Comunque adesso sono risponato 90% alla vita normale, anzi direi quasi 100% e quindi vado in bici. ora devo solo iniziare a fare delle corsettine, inizierò a ottobre, piano piano, riuscendo il mio sogno di fare una corsa apodistica. Giulia Baglioni e Pamela Diottalevi, le due fisioterapiste che hanno seguito giorno dopo giorno la rinascita di Giuseppe, da lui definite come gli angeli che gli hanno salvato la vita. Il paziente quando è arrivato era attaccato a un ventilatore e non muoveva quasi niente. Quindi è stato un approccio multidisciplinare perché abbiamo lavorato sia noi a livello motorio e respiratorio ma anche come logopediste che gli hanno solo riuscito a fare uno svezzamento dalla canula e piano piano ho ricominciato anche con la nutrizione perché all'inizio era attaccato con il sondino. Piano piano quindi siamo riusciti a incrementare la forza, ad avere un controllo del tronco, la deambulazione, la stazione retta e anche la sensibilità che mancava praticamente agli arti inferiori e anche adesso mi dice che non è proprio perfetta però dai, è stato un bel risultato e siamo contenti. Un percorso reso possibile grazie al completo servizio che può offrire la struttura riabilitativa Santo Stefano. Questo tipo di struttura offre assistenza a pazienti particolarmente gravi, quindi stati di coma, post acuti, neurologici, comunque gravi patologie che come nel caso del signore necessitano di un'assistenza multidisciplinare per cui ritengo che il risultato ottenuto sul paziente è proprio frutto del lavoro multidisciplinare dell'equipe che è attiva all'interno della struttura. Dal 15 al 17 settembre il festival Marche Storie fa tappa a Montemaggiore di Coglia al Metauro per raccontare le storie di due grandi personaggi che hanno attraversato questo territorio, ovvero Winston Churchill e Asdrubale. Oltre 2.000 anni di storia e separano i due personaggi e a narrarne le gesta, gli spostamenti e gli incontri più o meno segreti saranno i personaggi del San Costanzo Show che ci presenteranno una versione storico-comica di due protagonisti delle due importanti battaglie che hanno poi segnato la storia mondiale. Accanto all'evento principale rappresentato dallo spettacolo teatrale dal titolo Barzellette dal fronte, la sai quella di un inglese, un cartaginese e un romano, che sarà anche replicato venerdì e sabato alle 21.15 e domenica alle 19 al Teatro Comunale di Montemaggiore al Metauro, sarà anche poi possibile visitare il Museo Storico del fiume Winston Churchill, la mostra di fumetti anni 40 disegni in copertina e ascoltare le testimonianze della Seconda Guerra Mondiale raccolte dai residenti del luogo nel video Noi i presenti. Ed ora una notizia di sport che riguarda gli appassionati di calcio, parta infatti domani 14 settembre e durerà fino al 29 settembre la campagna abbonamenti della Vispeser 2023-2024. Le tessere saranno in vendita al botteghino dello stadio e al netto delle due gare disputate sul neutro di Recanati sono tessere che prevedono 17 gare in abbonamento ai prezzi di 300 euro per la tribuna coperta con ridotto a 250 euro e 135 euro con ridotto a 110 per tribune Prato e Laterale. Torniamo a parlare di cultura, in particolare parliamo di danza, illustrandovi la stagione organizzata da Amat per il 2024, anno di Pesero Capitale della Cultura, una stagione che si riapproprierà anche degli spazi del Teatro Rossini. Nell'atteso 2024 di Pesero Capitale della Cultura è pronta a partire anche la grande danza internazionale con un decennio di stagioni targate Amat e Comune nella città di Pesero. Si partirà il 7 di novembre con il primo di sette appuntamenti che dureranno fino al 31 maggio 2024 in cui la danza avrà anche il piacere di riappropriarsi dei prestigiosi spazi del Teatro Rossini. Passiamo da 5 a 7 appuntamenti, 6 in abbonamento, poi tradizionale fuori abbonamento in cui ci divertiamo naturalmente a proporre nel periodo delle feste, in questo caso il 28 di dicembre, un delizioso schiaccianoci del Balletto di Milano. In questo ambito si è raggiunto un traguardo che dieci anni fa era impensato, cioè una stagione compiuta di danza che aumenta anche il numero di appuntamenti, quest'anno passando da 5 a 7 appuntamenti, con alcuni appuntamenti fissi e attesissimi come il focus danza finale. Iniziamo con un progetto che, devo dire, ha avuto una bellissima fortuna, ha debuttato a fine stagione scorsa, un progetto di A per Balletto, quindi la più importante compagnia al di fuori dei corpi di ballo in Italia. Un progetto, devo dire, particolarmente, insomma, anche commovente e interessante, perché questo Overdance, come dice il titolo, si preoccupa di fare il punto, di fare un focus sulla danza per corpi maturi, per corpi che potrebbero essere considerati Over, soprattutto per l'età. Sette appuntamenti che contempleranno anche Ballad, della MM Contemporary Dance Company, e un 2024 che si aprirà il 2 febbraio con Triple Bill di Naturalis Labor, per proseguire con la Veronal, diretta da Marcos Moreau, che proporrà Passionaria, Emanuel God Dance con Love Train 2020, e una stagione di danza che si concluderà il 31 maggio, con i 30 anni di Spellbound Contemporary Ballet, che presenterà Recollection for a Falling, Postiamo il Futuro. Oltre a tutto la danza sarà di per sé protagonista, oltre al di là, interessandosi alla stagione della Capitale 24, lo sarà nei progetti del dossier, lo sarà nell'attività, lo sarà anche come tema di collegamento attraverso la rete dei teatri, ma anche attraverso luoghi inusuali da riattivare, come è stato ad esempio con l'ex anificio Carotti, altre situazioni con il resto della provincia, per dare ancora più, attraverso una forma artistica, anche così versatila, affascinante, trasversale anche all'età, il senso di un patrimonio che viene messo anche a disposizione dello spettacolo al vivo, in questo caso dell'arte coreotica in generale. E concludiamo il telegiornale con una nostra intervista all'Arcivescovo di Pesaro Urbino, Monsignor Sandro Salvucci, che ci illustra l'imminente convegno diocesano in programma all'Hotel Baia Flaminia. Siamo nel mese di settembre, è tradizione dare avvio a un nuovo anno di impegno ecclesiale, è tradizione con suetudine iniziare un nuovo anno con un convegno, un convegno pastorale appunto di inizio anno, al quale sono invitate tutte le persone che sono impegnate a qualsiasi titolo nella vita della Chiesa, a iniziare naturalmente dai sacerdoti, parroci, i religiosi, le religiosi, i diaconi, ma anche tutti i fedeli che sono impegnati nel catechismo, nelle varie attività che fanno la vita quotidiana delle comunità, delle comunità cristiane. È un momento dove ci si ritrova, ci si ritrova nella fede per ricominciare, per ripartire. In questa fase, in questo momento preciso della storia che viviamo, la Chiesa di Pesaro, in sintonia con tutte le Chiese che sono in Italia, vive un percorso particolare che viene chiamato Cammino Sinodale. L'idea contenuta da questa espressione è molto semplice, cioè dice quella che è la natura stessa della Chiesa, cioè un popolo in cammino. Quindi non una realtà dunque che è animata, portata avanti solo dagli specialisti, dagli addetti ai lavori, ma dove tutti, tutti i battezzati, sono chiamati a dare il proprio contributo in un'ottica di corresponsabilità. Il Cammino Sinodale è una stagione molto particolare che vive la Chiesa, la Chiesa intera, la Chiesa in Italia e la nostra Chiesa diocesana, perché in fondo ci permette di metterci davanti a dei quesiti importanti. Il mondo è profondamente e rapidamente cambiato e sono, solo per fare un esempio, i risultati di un'indagine condotta e pubblicata nella scorsa estate dal 2001 al 2022 il numero dei praticanti cosiddetti irregolari si è dimenzato. Una percentuale che all'inizio del 2000 era attorno al 36%, oggi è attorno al 19%. In tutto ciò la Chiesa si pone oggi un tema che è un tema centrale da sempre, cioè come vivere la propria missione, come annunciare il Vangelo, la buona notizia di Cristo all'uomo di oggi e come far sì e cosa la Chiesa dovrebbe cambiare perché il Vangelo e la figura di Gesù Cristo possa incontrare il mondo. Ecco, queste sono le domande che guidano il convegno e anche il cammino della nostra Chiesa durante questi ultimi anni. Quindi il convegno pastorale di Ocesano è un momento che ha un grande valore. Naturalmente l'invito è aperto a tutti, quindi non solo agli addetti ai lavori, non solo alle persone impegnate a livello ecclesiale, anche a coloro che, per dire, volessero solo a partecipare per curiosità. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21.20 di questo mercoledì 13 settembre vi propone il nostro speciale realizzato a Piobbico in occasione dello scorso weekend, il weekend della Sagra Nazionale del Polentone alla Carbonara e il Festival dei Brutti proprio del Borgo di Piobbico. E poi naturalmente vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini domattina come sempre puntuali in diretta alle 7.20 come ogni mattina dal lunedì al sabato. E invece si chiude qui l'informazione di Rossini News. Vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV. Grazie. Grazie.